buongiorno amici buongiorno amiche salutiamo pasqui che ci ospita nel suo bellissimo canale vedete siamo su android auto siamo su android auto lo siamo in particolare in modalità wireless con questa Volkswagen che non è dotata di android auto wireless ma di android auto via cavo e carplay via cavo siamo connessi usb c usb c a questo box android quindi la prima cosa che scopriamo di questo box android e che ci connette ad android auto via wireless in una macchina che altrimenti sarebbe dotata di android auto via cavo e carplay via cavo soprattutto mi raccomando per usare questo box è necessario che la vostra macchina abbia carplay via cavo dopodiché potrete avere android auto wireless e carplay wireless però di base deve esserci carplay cablato come vedete non stiamo a perdere tempo sul android auto che è un'interfaccia che conoscete un po un po tutti ma andiamo alla particolarità di questo box vedete andiamo al suo launcher che questo qua che ci ricorda che in questo momento siamo connessi ad internet tramite il wifi perché in questa macchina è presente una sim dati e quindi noi ci siamo connessi a questa sim dati perché questo box è dotato di un'espansione di memoria attraverso una micro sd e basta non c'è altro sotto c'è la dissipazione del calore qui c'è un led e la pressa usb c non c'è altro quindi manca un alloggiamento per inserire una sim dati manca il gps integrato dovete utilizzare una fonte dati esterna un gps esterno tornando a lui vedete queste sono le app presenti non sono molte ma questo è un bene perché poi tutte quelle che vi serviranno le potete installare attraverso il play store qui inserite i vostri dati e troverete sia le vostre app che avete pagato sia quelle gratuite potete anche installare le apk da dal gestore dei file che sta che sta qui ecco vedete andate qui cliccate sulla pk e la eseguite qui abbiamo visto che potete seguire musica e video dalla sd che vi ho fatto vedere prima questo ad esempio è il anzi no lo volevo lanciare con il lab ecco l'applicazione giusta questo è il video che era presente nella sd ma poi ce neanche un altro vedrete eccolo questo qua in hd si vede bene potete mandare avanti agevolmente anche il video quindi pensate se avete un film che volete far vedere i vostri figli o cose simili lo potete fare mettendolo nella sd torniamo indietro torniamo indietro c'era voletto anche un brano anzi un brano musicale eccolo qua e lo riproduciamo con l'app musica si sente si sente bene stereo su tutta l'automobile quindi abbiamo visto un'altra funzione importante di questo box cioè la riproduzione dei file che sono presenti nella s e la sd qui potete se avete lanciato un file o un video di youtube sullo smartphone andando qui poi lo potete ascoltare anche in background quando salite in macchina andiamo a vedere youtube ricordo che sono connesso una sim dati presente nell'auto calcolate che ecco vedete siamo su youtube è partita la pubblicità di youtube ma vedete si vede in hd si vede molto bene adesso finita la pubblicità vedremo il video youtube io infatti vi consiglio di installare youtube diciamo di quelli disponibili in rete che adesso non sto a nominare che vi permetteranno di vedere youtube senza pubblicità qui continua la pubblicità la schippiamo e vedete andremo al video che avevamo scelto guardate si vede si sente bene si vede si sente anche in movimento mentre si guida quindi i passeggeri potranno godere di youtube cosa che non è possibile con android auto se poi avete un account netflix potete vedere anche netflix io non ce l'ho ma poco male è presente se lo avete l'account potete vedere netflix in movimento tranquillamente adesso per i più curiosi andiamo dentro le impostazioni allora vediamo un po cosa posso farvi vedere qua qui ci dice il nome del box siamo usciti volevo farmi vedere una cosa una cosa che ho visto prima vedete in italiano in italiano non era qui comunque intanto approfittiamo per vedere ecco qua abbiamo un processore snapdragon qualcomm 2 gigabyte di ram 16 gigabyte di memoria 11 alla versione di android qualcuno di voi storcerà il naso dice beh giù di gigabyte di ram sono pochi e 16 di memoria interna idem si confermo non sono molti il processore va bene perché come sapete gli snapdragon funzionano bene funzionano bene anche nei box 2 gigabyte però devo dire che sono ben ottimizzati su questo su questo box quindi fa molto anche l'ottimizzazione del produttore perché se ne avete quattro ma sono mal ottimizzati è come averne due qui ne avete due ma sono ben ottimizzati la memoria interna per metà è occupata dal sistema dalle app precaricate ma come vi dicevo c'è la memoria espandibile e la possibilità tranquillamente di espandere la memoria stessa con una minima spesa tipo con 4 euro trovate delle sd dalle 64 giga su aliexpress quindi io direi che abbiamo abbiamo detto un po tutto con una spesa veramente ridicola perché questo box si porta via con 80 90 euro spedito in 15 giorni dalla cina senza dogana mi è arrivato veramente non saprei come non consigliarlo e scriverò anche nel titolo che è un best buy con una spesa minima avrete un processore snapdragon avrete android auto wireless carplay wireless avete la possibilità di vedere youtube in movimento la possibilità di avere netflix in movimento cosa che box come android a wireless o car sci-fi che io ho testato non vi danno perché quelli fanno solo solo tra virgolette che il vostro box che il vostro smartphone si colleghi all'auto in modalità android auto wireless anziché via cavo qui invece avete sia quella possibilità e ricordatevi che da qui entriamo in android auto wireless ma soprattutto la possibilità di riprodurre file presenti nella sd film presenti nella sd youtube e netflix in movimento e qualsiasi app via voi abbiate voglia attenti che altri box non hanno il play store questo ce l'ha altri box potete utilizzare solo le app che sono preinstallate qui invece potete installare tramite il play store o tramite e seguendo la pk tutte le applicazioni che volete quindi vi ripeto secondo me attualmente per il prezzo a cui è venduto e per come funziona questo è un best buy qui con questa opzione torniamo alla macchina vedete torniamo alla macchina e poi possiamo ritornare tranquillamente al box io direi che abbiamo detto tutto abbiamo già salutato pasqui nell'entro del video lo risalutiamo e ci vediamo presto ciao ciao